Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore mio e Dio, questa mattina ti do tutto ciò che sono, tutta la mia vita. So che ciò che ti offro può sembrare poco, ma so anche che per te ogni dettaglio è prezioso e pieno di significato. Grazie perché mi ami e apprezzi ciò che sono e per avermi fatto sentire, importante per te. Ti ringrazio profondamente perché anche nei momenti in cui mi sono sentito solo, quando le persone mi hanno abbandonato o quando mi sono sentito ignorato, tu sei sempre stato al mio fianco, sei stato la mia forza e il mio supporto costante, dandomi la forza di andare avanti quando ne avevo più bisogno. Ti lodo e ti benedico questa mattina perché in tua presenza mi sento pieno, amato e ricordato. So che mi hai creato con uno scopo di amore e felicità e non per vivere con fardelli di rancore e odio nel mio cuore. Ti prego, non permettere a nessuno di farmi credere il contrario, non lasciare che alcuna voce o circostanza mi faccia dubitare del mio valore. Tu mi hai formato con amore, mi hai dato uno scopo e una ragione per vivere con pienezza e gioia. Questa mattina con tutto il cuore ti dico grazie per la mia vita, per l'opportunità di vivere questo nuovo giorno. Amen Gesù, Maria, vi amo, salvate le anime dei sacerdoti, salvate le anime. Ve lo chiediamo, supplichevoli, e concedeteci di poter ripetere quest'atto d'amore mille volte, ad ogni palpito, ad ogni respiro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Buongiorno Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Grazie 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 Grazie